Tocca ora agli atleti della seconda batteria categoria G4, sferrare la prima pedalata di giornata. Partenza velocissima anche per questi atleti, con il gruppo che si allunga in fila indiana. Il ritmo sembra calato, ma è un'attretta della Kage Kappes che in questo momento prova a sorprendere il gruppo con un'accelerazione, ma Guidizolo e Mazzano subito rispondono. Ultimo giro e al comando con un leggerissimo margine di vantaggio troviamo Novarese, Kage Kappes, Mazzano e Mata Team. Più indietro il resto del plotone allungatissimo. E nello sprint finale conquista la vittoria Merletti Simone della Mazzano, davanti a Lancerotto Riccardo della Kage Kappes, Bazzoli Nicola della Mata Team, Freri Geremia della Mazzano e Vedovello Simone della Mata Team.